Dopo aver preparato accuratamente la parete, come indicato sulle schede tecniche, applicare il prodotto con pennello spagna, incrociando le pennellate. Ripassare immediatamente con pennello scarico, per rendere omogenea la distribuzione del prodotto. Dopo 5-10 minuti, schiacciare la superficie, facendo una leggera pressione con spatola inox, senza asportare il prodotto. Grazie per la visione!